L'Ara Viece li vestirà il marchio di casa. Ufficializzata infatti la partnership tra il brand Castelli della famiglia cremonese e Ceratizit VNT, il team tedesco della ciclista professionista Fonzasina. Il marchio debuterà già nel fine settimana e farà bella mostra di sé in tutte le più importanti competizioni internazionali. È una bella soddisfazione perché L'Ara è la più forte professionista femminile che c'è in provincia e la vedevo sempre passare con la divisa della squadra e così un giorno ogni tanto ci sentiamo, mi ha chiamato e da lì abbiamo fatto l'incontro con il team. Noi avevamo bisogno all'interno di Castelli di vestire un team femminile perché ci sembrava giusto supportare un team femminile e abbiamo trovato questo gruppo che è molto ben strutturato con un'azienda alle spalle molto grande e sicuramente assieme potremo avere delle belle soddisfazioni. Grande emozione per la Viece li che correrà qui portando un po' di casa propria sempre con sé. Sono veramente molto fiera perché l'ultima volta che ho vestito il marchio di Fonzazio allora era sportful, ero giovanissima, avevo 8 anni circa, quindi sono felice che ad un certo punto della mia carriera ci siamo ritrovati con Alessio.